Mie cari amici, ho avuto una sorpresa in questi tempi da parte di due amici, una coppia, Pierluigi e Tiziana Ramello, che sono architetti, sono stati in Capoverde e hanno voluto elaborare un progetto che se poi la provvidenza ci darà di realizzarlo, lo realizzeremo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le nostre forze ed è un progetto che viene collegato al grande progetto che noi abbiamo, tante mani per Santa Cruz, è pieno di bambini. E questo voglio legare, questo progetto che ho ricevuto, con bellissime immagini anche di bambini, capoverdiani, al Natale. Natale è la festa della famiglia, è la festa della vita, è la festa della tenerezza di Dio. E da molti anni io non passo Natale in Capoverde perché sento il bisogno, a parte con tutti gli amici, benefattori, che aiutano tanto, però viverlo nella mia terra, nelle mie radici di fede, pur col mio trovaglio interiore. E ogni vigilia di Natale, da molti anni, celebro al Convento dei Cappuccini di Racconisi la messa della vigilia, della notte di Natale, con tanti amici, familiari, con tante famiglie racconigesi, con le quali io per radici sono legato, anche se la mia vita ormai è molto lontana, però dentro sento una chicca. Dopo la messa, mio fratello, a ricordo della mamma, mio fratello Giacomino, mi prepara i grandi agnolotti che faceva la mamma nella festa di Natale. Ma, chiusa questa parentesi, io sono legatissimo nel mio percorso di credente all'incarnazione. C'è questo Dio, colui che ha creato l'universo, che è l'universo sempre più sento, perché i scienziati lo dicono, è pieno di vita, ha un'armonia che non sanno neanche loro come descrivere questa perfezione che ha l'universo. E allora per me invece è Dio che viene verso di noi, che Dio ci vuole bene, che Dio è innamorato di questo suo mondo e tanto più è innamorato di ognuno di noi. E per rivelarci il suo amore si fa carne in Maria, una delle nostre donne, una delle nostre mamme. E allora il Natale è ricordare la tenerezza di Dio, bimbo, che entra nella nostra storia umana, fa tutto il percorso nella nostra esistenza fino alla morte in croce. E ogni tanto me lo dico, perché lo dico, forse l'ho già detto anche qua, in croce l'ultima parola che Gesù dice, lo chiamola al bambinello, nel presepe, Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. Immaginate, lui tradito, abbandonato, sputato, fatto di tutto, alla fine dice, Padre perdona, si è carica di tutto, dei nostri peccati, dalle nostre incapacità ad amare, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Allora questo Natale deve essere un Natale in cui riscopriamo la gioia dell'amore di Dio che parte dal bambino di Betlemme e che arriva fino a lui crocifisso e che grida questa ultima parola ma piena, 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 piena di amore. Allora con questo messaggio vi auguro un sereno e buon Natale ad ognuna personalmente e ad ogni famiglia che mi ascolta e andiamo avanti sempre con molta, molta fiducia. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori. Grazie a tutti. Grazie a tutti.